Buongiorno e benvenuti, mi chiamo Monica e mi trovo nella sala dedicata agli artisti che sul finire degli anni venti maturano ricerche alternative a quelle novecentiste, tra questi Tullio Garbari che fin da giovanissimo partecipa al clima di rinnovamento promosso dagli artisti legati a Capesaro come Arturo Martini e Gino Rossi. L'opera che vedete è la sua composizione bucolica religiosa, una tela del 1931. L'artista trentino rievoca il tema della natività in un paesaggio alpestre dal chiaro sapore primitivista. La scena è delimitata dai monti sullo sfondo che sono incoronati da tre grandi figure alate. Decisamente fuori scala appaiono anche i pastorelli e gli animali rispetto al pastore e alla donna inginocchiata. L'arcaismo mistico religioso della composizione riecheggia la pittura dei semplici e gli ex voto, favorendo, secondo l'artista la via ad una silenziosa comunicazione con Dio. La tela è probabilmente l'ultima opera eseguita da Garbari ed è non finita dal momento che manca di definizione cromatica sulla fascia superiore ed è ancora evidente la quadrettatura per il riporto del disegno. Il dipinto fu acquistato dal comune di Milano alla mostra postuma dell'artista tenutasi alla Galleria del Milione nel 1936. Grazie a tutti.